Benvenuti a questa nuova puntata sul Vangelo di Marco. Dobbiamo entrare nel merito delle singole pagine, di quei singoli 16 capitoli di cui fino adesso abbiamo fatto soltanto qualche cenno. Dobbiamo anche chiederci però prima che cosa ci dobbiamo aspettare sostanzialmente. Ci aspettiamo un autore che ha la capacità di proporci un discorso immediato caratterizzato da un'elevata leggibilità e soprattutto da un vocabolario, dal linguaggio che è molto semplice ma nella sua semplicità è estremamente folgorante. Ha la capacità di semplificare l'essenziale difficile in un linguaggio molto piano e soprattutto di accompagnare il lettore in un percorso estremamente semplice presentando tutta la teologia possibile sul Cristo della Chiesa. Diciamo che il Vangelo di Marco si presenta un po' a cerchi concentrici. Innanzitutto chi è Marco? Di Marco si parla per esempio in Atti 12-12 quando si parla in maniera particolare di Giovanni Marco dove si dice che era presso Maria madre di Giovanni detto anche Marco. In Atti 13-13 si parla anche di un Marco che è compagno di Paolo e in Colossesi 4-10 si parla di Marco cugino di Barnaba. Nella lettera a Filemone in capitolo 1-24 si parla anche di saluti di Marco e in 1 Pietro 5-13 si dice Pietro dice vi saluta anche Marco mio figlio. Una formula apostolica per dire colui che io ho generato nel Vangelo. Quindi sostanzialmente Marco è un po' il discepolo di Pietro e di Paolo. Abbiamo anche una testimonianza del Vescovo Papia di Gerapoli, la famosa attuale Pamukkale che si trova in Turchia, che è una città molto bella e a causa dei depositi salini viene chiamata anche la città delle nuvole. Si parla di un certo presbitero Giovanni, quindi Giovanni Marco e Papia di Gerapoli compie due giudizi sul Vangelo di Marco. Dice che Marco è interprete di Pietro, quindi prese le parole e le opere del Signore così come le ha trasmesse Pietro e dice anche che le trascrive in maniera disordinata. Questo vedremo che è un giudizio piuttosto inesatto da parte di Papia di Gerapoli. Per chi scrive Marco? Marco scrive per una comunità che è agli inizi del proprio cammino e che quindi essendo agli inizi del proprio cammino egli intende condurre per mano in un processo di conoscenza che li porterà come vedremo dalle tenebre verso la luce. Quindi è una comunità pagana cristiana, molto probabilmente è anche una comunità di Roma, alcune caratteristiche del Vangelo lo dimostrano. Ci sono per esempio molte traduzioni di termini latini in greco, come per esempio la traduzione di lepta, delle due lepta che vengono messe dalla vedova nel cesto del tesoro del Tempio, vengono tradotte in quadrantes, i famosi quadrantes romani. Quindi questo sta a significare che Marco sicuramente conosceva l'ambiente latino. Marco è il primo degli evangelisti, si trova sulla linea di frontiera del 70 d.C., momento della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Infatti il discorso escatologico di Gesù che troviamo in Marco avviene dopo l'assedio di Gerusalemme ed è una rielaborazione sostanzialmente teologica di quanto è successo a livello storico. Grazie a tutti.